pareri sul discorso di Vegapunk e sensazioni brividi sulla frase di Ray che chiude il capitolo lascio prima te la parola Rhapsody poi se Simon vuole aggiungere qualcosa può andare, vai pure Rhapsody beh alla fine il discorso su Vegapunk è stato è stato molto più di ciò che mi aspettavo ovvero io pensavo che i Cinque Astria avrebbero troncato ben prima il discorso invece ormai è un tre capitoli se non erro che il lumacofono va diciamo va avanti non stop ovviamente se vi aspettavate che venisse svelato il finale quello no perché sappiamo tutti che alla scoperta del tesoro lo chiamo tesoro perché comunque dell'entità non sappiamo nulla però chiamiamolo tesoro scopriremo la vera storia e i veri segreti infatti Vegapunk chiosa con so però chi veramente sa tutto sono coloro che hanno scoperto la storia del mondo ovvero i pirati di Gold Roger e infatti viene mostrato sia il sia Crocus ai promontori gemelli e quel finale con con Rayleigh molto molto nostalgico che devo dire ha ragione perché lo stesso Rufi se vi ricordate alle Sabaody ferma il suo il suo Nagama Usopp che chiede a Ray di di svelargli delle cose sul One Piece o comunque delle cose che hanno scoperto Rufi giustamente si arrabbia perché dice no io non voglio vivere un'avventura scontata cioè lui vuole godere del suo viaggio e scoprire quello che che ci sarà nell'ultima isola quando troveranno il quarto Pognegrif rosso che porterà a Raftel e lì scopriremo la verità e Ray pare andare sul pare confermare quella sua quella sua come dire quel suo lascito del capitano di non svelare ma di lasciare una volta trovato il tesoro ciò la verità sui cento anni di vuoto è la vera storia che ci è ancora sconosciuta non so Simon che ne pensi no 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 ma di base le stesse cose io ero uno di quelli che fin da subito cioè mettiamo la prima ordina per il posto che l'ho seguito da poco perché sono messo in paro di recente io ho mio fratello mentre Chiarelli ha la sorella che segue un piso e mio fratello lo seguo da tantissimi anni l'ho imparato tantissimo però sì effettivamente tanti avevano l'idea che non venisse detto niente sostanzialmente e già il corosello fermasse la trasmissione invece stanno scendendo fuori delle cose sì magari anche in parte prevedibili come può essere la questione del mondo che sta affondando cioè perché comunque nel corso della storia hai avuto varie cose che ti fanno pensare che effettivamente c'è qualcosa di strano in questo pianeta in questo mondo a livello di livelli del mare no? cioè che ci sono città sommerse cose un po' particolare diciamo mi sta interessando un po' la questione della mother flame cioè una cosa interessante è che questa mother flame da quello che ci hanno fatto capire è qualcosa di sostanzialmente vivo cioè non è un cioè non è un'arma fisica io pensavo fosse tipo un cannone capito? cioè una cosa che spara un raggio laser potente pare che sia una sorta di 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 particella di beh sappiamo tutti che Vega anche alla fine è è paragonabile a Einstein anche fisicamente visivamente è disegnato credo esatto è ispirata a lui e quella se vedi se vedi quel contenitore della mother flame c'è scritto atomo quindi quella alla fine è il prototipo di bomba atomica e ci viene spiegato nell'ultimo capitolo che che alla fine questa mother flame è una sorta di carburante per Uranus sì ma è molto interessante comunque cioè sta svelando ma non troppo poi vabbè è chiaro che la frase finale di Vega va che è bella forte no che ti conferma effettivamente che hanno scoperto tutto e quindi alla fine è bello perché se all'inizio tu di un piso puoi pensare che alla fine del viaggio ci sono i tesori questi alla fine del maestro hanno trovato delle risposte sul mondo ed è una cosa che è molto molto potente se ci pensiamo la cosa ancora più interessante è che si sono messi tutti a ridere scoprendole quindi questa cosa è decisamente che arrivano alla fine di un viaggio del genere scopri e ti metti a ridere la verità su tutto solo che sono arrivati in anticipo rispetto non si sa come ma i pirati di Gold Roger sono arrivati in anticipo e non hanno potuto diciamo ottemperare un qualcosa che sicuramente i nostri eroi essendo arrivati nel tempo giusto col tempo giusto esatto lo status quo del mondo sta per essere già già in movimento l'abbattimento di quello che ormai è un è un regno che va avanti da da dopo il secolo vuoto per inerzia cioè poi fondamentalmente perché è una non democrazia di fatto cioè che è un mondo in cui esistono poi i draghi celesti non può essere un mondo democratico cioè in cui ci sono delle persone che decidono di schiavizzare altre persone eppuro così non può essere un mondo democratico nemmeno se ci fosse una guerra un'invasione sarebbe giustificato specifichiamolo però è chiaro che cioè quei privilegiati là che casualmente vivono in cima a un monte casualmente vabbè parliamo comunque di un di una storia che è sempre in essere no e che ha da poche risposte in realtà perché si dà delle delle risposte ma comunque ti sta facendo sorgere delle domande vegapunk quindi alla fine secondo me quando sta davvero per sarà davvero per dire magari la cosa più grossa i gorosei lo fermeranno la trasmissione sì assolutamente e questa è proprio la cosa da one piece cioè che quando si sta per svelare il trucco ma anche di draga dice io ve la butto lì quello che sta tirando le file è shanks tu che ne pensi raps beh diciamo che il ross è un personaggio parecchio strano cioè c'è stato un momento in cui nel post walkie caland lo vediamo confabulare con i cinque astri e da lì sono partite mille illazioni sul fatto ah ok per dirla alla pressing turna il e poi il cattivo finale mille cose quando invece sappiamo che complice il film red basato proprio su di lui pare confermato che sia un figlio di un drago celeste che è stato abbandonato e trovato dal dalla ciurma di roger il padre pare essere figarland il sicario dei quello dei cavalieri celesti col ciuffo e quindi però certo è che vederlo parlare con con i corosei ti dà da pensare secondo me l'accesso al castello al castello pange è perché sempre perché nel suo sangue scorre il sangue di un drago celeste però mai dire mai secondo me non cioè penso sarà il boss il boss finale shanks ma per il semplice motivo che è cioè di base è l'uomo che ispira luffy in un certo senso cioè quello che dà il cappello da pirata e quello è il cappello che non era propriamente suo cioè shanks è fondamentalmente una divinità scesa in terra dei poteri almeno dal manga mai spiegati cioè che è uno che ha così ha disintegrato una flotta in due vignette cioè è chiaro con una giurma impossibile improponibile cioè quindi è una macchina da guerra tipo Roman Reigns probabilmente secondo me sarà l'ultimo ostacolo per arrivare a Raftel però secondo me non è cioè non sta facendo un gioco politico non lo so sulla tua affermazione di nemico finale io personalmente non l'ho mai vista così i nemici finali secondo me sono due adesso c'è da capire quale verrà battuto prima cioè se prima troverà il One Piece e poi il nemico finale sarà abbattere il governo o viceversa se se la vedranno prima magari congiuntamente i pirati e poi si sfideranno per trovare il One Piece quindi non so se Shanks se lo scontra avverrà mai il ricongiungimento tra diciamo allieva e maestro però io ho sempre visto un un barba nera che che uccide Shanks è un è un Rufy che fa di tutto per per vendicarlo però detto questo per me i due nemici finali c'è da capire per l'appunto l'ordine saranno barba nera in Sama sì esatto come dice Monkey certo a parte stiamo a parlare di anni di sto passo sono tanti anni diversi anni ma nemmeno ma nemmeno perché comunque è accelerato secondo me ne vedremo delle belle ma alla fine stanno scappando c'è 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 il buff dove ci sarà secondo me l'ultimo pognegriff rosso e dopo di che è la fine ripeto c'è da decidere se prima ci sarà quello che per adesso è un fatal four way tra eliminazione tipo elimination chamber shanks e buggy clown a tutti effetti un imperatore esatto perché secondo me alla fine in un modo o nell'altro faranno passare buggy come colui che ha me la sento c'è o dagli lo deve visto che l'ho fatto l'ho fatto ammalare il giorno in cui sono arrivati sull'Utel e io mi immagino che in qualche modo sarà Rufy a trovare One Piece però a livello di cronaca faranno passare buggy come re dei pirati di questo magari Morgan sono super convinto e quindi c'è da capire se prima se prima troveranno One Piece e poi faranno la lotta finale col cattivo che alla fine secondo me è Im Sama il vero cattivo o se prima magari c'è un'alleanza temporanea con Barba Nera e poi tutto il finale sul tesoro ma pure sta cosa no ma il punto cioè questo è in pochi casi in cui veramente non conta la destinazione ma il viaggio cioè One Piece chi lo sa a un certo punto ha detto cioè se ne frega pure ha detto tra noi cioè che tu trovi il One Piece che sono i miliardi cioè non verte più sulla ricerca del tesoro One Piece verte su altro ormai cioè è molto più maturato ma non per disprezzare una cosa di una ricerca sul tesoro ma le tematiche sono altre cioè è sostanzialmente ha una decodifica secondo me anche ampiamente anarchica cioè quello che racconta racconta di autorità autoritarismi di governi di cose cioè è una di impicci politici va bene oltre il tesoro cioè il finale soddisfacente non deve essere quello cioè ma nemmeno diventare ridepitati cioè quelle sono le menate che ci sono un po' da shonen che devo essere più forte però poi a Luffy non prega niente essere più forte assolutamente è così è così e lui non è un materialista il doblone vero è proprio se ci sarà poco importa esatto ma in realtà è la verità su tu cioè la verità la conoscenza è quello il vero potere cioè sovvertire lo status quo che è stato creato da questi da questi venti re al suo tempo e poi tramandato tramite stirpe familiare non venti perché vabbè la famiglia Nefertari e quella di Doflamingo sono state chi allontanate e chi di propria volontà e che poi abbiamo visto proprio nell'ultimo capitolo che si rischia si rischia questa sorta di triangolo amoroso perché Imu pare vedere un quadro raffigurante sì è vero che c'è molti stanno stanno dicendo che Joy Boy cioè Imu ce l'ha con Joy Boy ha fatto tutto quel macello perché gli ha fregato Lily sostanzialmente che sarà solamente la copia carbone della principessa Bibi che poi comunque scusate questa secondo me non è penso tra un po' passiamo al wrestling non vi preoccupate però secondo me non è vero perché questi sono i sovrani del mondo cioè uno li ha visti sempre i vecchietti simpatici e buoni cioè in realtà sono delle bestie di satana con dei poteri devastanti cioè comunque Kaido come l'hanno battuto cioè a momenti ci muoiono cioè l'hanno dovuto affrontare in sei cioè l'hanno dovuto fare una chiusa per battere Kaido uno a uno Duffy non l'avrebbe mai potuto battere secondo me nemmeno con nemmeno con il Gear 5 cioè è possibile sì sì le scamotage alla fine è quello di far trascendere non so se non retcon o meno ma però è sicuramente stato fatto da queste scamotage del Defrutto con che poi è diventato omo omo modello Nika e quindi l'ha resa a tutti effetti una divinità per fargli battere Kaido e fargli fare questo power up vabbè ma con tante anche anche il comunque ricordiamoci anche il Super Saiyan in modo suo è una mega retcon il Super Saiyan 2 il Super Saiyan 3 Super Saiyan 4 ricordiamoci di Super Saiyan questo è Dragon Ball tutti e viene esplicitamente detto che ce n'è uno di Super Saiyan e alla fine di Dragon Ball Z ci sono almeno sette persone in grado di farlo non mi toccare il Super Saiyan di livello 3 che è bellissimo il meglio era quello che girava su Google il presunto Dragon Ball AF col Goku Super Saiyan lì allo 100 tu cercavi le foto e tipo c'erano i video dei trasformazioni di Goku c'era sta roba con sotto What I've Done dei Link in Park c'erano i video c'erano i video di